Un anno scolastico pieno di novità, mi è stato molto piacere essere qui a menaggio, questa è una scuola bella, una scuola che funziona, una scuola che dà tante cose ai ragazzi, però questo è un anno che ripeto sarà pieno di novità e di opportunità, abbiamo una legge di riforma che dobbiamo saper applicare e che darà alcune opportunità alle scuole. Bisogna essere in grado di coglierle, applicarle, trovare tutte le possibilità per fare una scuola ancora migliore di quelle che stiamo facendo. Il primo giorno di scuola ti senti allo stesso tempo meravigliata, estasiata, entusiasta, ma non so sempre anche preoccupata. Mio fratello va in prima, diceva quando inizia la mia vita a scuola, ma poi ieri si è messo a dire ho paura, ho paura e poi oggi l'abbiamo accompagnato e è felice. Credo che abbiate cominciato un'avventura bellissima, perché imparare è una delle cose più belle della vita, è una cosa molto bella, non so una cosa, ci provo, mi accorto che poi la so, vado avanti, ne imparo altre. Voi siete molto curiosi, allora vi chiedo di non perdere mai questa vostra curiosità. Io sono Isu, o Scherzi. Io sono Ponte, o Senti. Io sono Carifa, sono Mareco. Un anno e i prossimi all'insegna dei 100 linguaggi dei bambini, cioè una scuola capace di stimolare, sviluppare e sostenere il processo di apprendimento degli alunni nella creatività. Il primo giorno di scuola io mi viene un po' di paura, mi passa perché poi li vedo tutti i miei amici e la paura diventa gioia. Alle famiglie chiedo di partecipare, direi che lo spirito anche di questa riforma che è stata introdotta è quello di avere un maggiore contributo decisionale anche da parte delle famiglie, perché la scuola non è una propagine di un'amministrazione, la scuola fa parte della comunità scolastica, appartiene alla comunità scolastica, ed è la comunità scolastica con la sua partecipazione che deve guidarla, che deve dare indicazioni, che deve sostenerla. Siamo soddisfatti che finalmente anche al Centro Largo, la nostra zona che sembra sempre un po' dimenticata da Como, sia stata oggetto dell'inaugrazione da parte del provveditore della nostra scolastica. In un momento in cui il territorio del Centro Largo sembra più propendere per andare ad altri lidi, verso la Valtellina, perché si sente trascurato da Como, questa è un'occasione per dire che noi con Como abbiamo dei rapporti forti, che spero e che Como voglia sempre di più consolidare. La presenza del direttore proietto nella nostra scuola qui a Menaggio è un segnale molto importante per gli studenti del territorio, perché sottolinea l'interesse comunque che si ha verso la nostra scuola, che è comunque una scuola ai margini della provincia, ma che per questo territorio è una risorsa molto importante. Grazie a tutti!